Amc è l'unica azienda in Italia a mettere a disposizione la strumentazione necessaria al funzionamento degli ascensori in totale sicurezza. In media ogni condomino usa l'ascensore quattro volte al giorno e il più alto fattore di rischio è legato alle funi di trazione. Per questo Amc propone il metodo magneto induttivo, la rivoluzionaria tecnologia in grado di analizzare ogni singolo filo d'acciaio. I controlli oggi sono ancora effettuati a vista come 150 anni fa. Ciò significa che se all'interno della fune i cavi sono usurati o rotti, il vecchio metodo non è in grado di rilevare e prevenire i pericoli che ne derivano. Amc offre quindi una serie di strumenti adattabili a ogni situazione ed esigenza, in grado di rilevare contemporaneamente tante tracce quante sono le funi, proponendo un diagramma ripetibile e scientificamente testato che consente di effettuare valutazioni corrette riguardo lo stato delle funi analizzate e di valutarne quindi la sostituzione o il mantenimento. La modalità di intervento è semplice, veloce e in totale sicurezza per gli utenti e per gli operatori. Le unità di analisi e di acquisizione dei dati si connettono tra loro con estrema facilità. I tempi di intervento equivalgono a quelli di una corsa dal primo all'ultimo piano. Al termine viene fornito un report completo che rispetta scrupolosamente le normative di settore. Amc Control effettua ispezione diretta con proprio personale qualificato o indirettamente attraverso il noleggio della strumentazione e la formazione qualificata. Amc propone una tecnologia estremamente avanzata ed efficace, ma di semplice utilizzo. Una strumentazione testata e garantita, ma dai costi contenuti. Per questo a oggi gestiamo quasi 84.000 impianti e il numero è destinato a salire. Abbiamo controllato più di 70.000 km di fune e sono state effettuate più di 900.000 ispezioni. Amc Control è estremamente attente ai propri clienti, con i quali desidera stabilire un vero e proprio rapporto di collaborazione duraturo nel tempo. Modelliamo quindi la nostra offerta e i nostri servizi al fine di garantire la massima soddisfazione. L'ascensore è il mezzo più usato in assoluto ed è quindi fondamentale pretendere garantire l'assoluta sicurezza. L'ascensore è il mezzo più usato in assoluta sicurezza. L'ascensore è il mezzo più usato in assoluto e l'ascensore è il mezzo più usato in assoluto e il mezzo più usato in assoluto